La notizia del giorno è che l'uomo simbolo del Bari dell'era moderna, il record man di presenza in bianco rosso, ovvero Jean-François Gillet, non esclude eventuali partenze pronunciando il più classico dei vedremo a fine stagione. L'argomento è stato toccato in conferenza stampa dal Gatto di Liegi, grande protagonista della bella vittoria di domenica scorsa a Parma che ha fatto abbandonare a più di un rimpianto. Parlare di futuro adesso non mi sembra il caso, non è il momento perché mancano due mesi, dopo un campionato negativo come il nostro cambia tante cose, adesso siamo ancora in corsa per la salvezza però siamo anche realisti che è una cosa molto difficile. Quando fai la Serie A a certi livelli, inizi a giocare a livello anche internazionale, giustamente ti cresce la voglia, è inutile, comunque ognuno di noi è ambizioso, ognuno di noi ha voglia di raggiungere il massimo, perché comunque le nostre carriere è inutile che ci nascondiamo, sono brevi, allora raggiungere un punto importante della carriera sarebbe anche inutile nascondersi. Grazie a tutti. Grazie a tutti